Gari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada. Perché con i piedi, con il corpo, possiamo essere con Lui, ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione. Nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che il colore del sangue può diventare, per lo spirito mondano, quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. Anche noi, Papa e Cardinali, dobbiamo sempre risvecchiarci in questa parola di verità. Una spada affilata, ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso tempo ci guarisce, ci libera, ci converte. Conversione è proprio questo. Da fuori strada, andare sulla strada di Dio. Che lo Spirito Santo ci doni, oggi e sempre, questa grazia.